Passiamo pertanto all'esame dell'articolo unico e dei relativi emendamenti. Se nessuno chiede di intervenire, invito il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 segnalati per la votazione. Prego, onorevole Tullo. Grazie, Presidente. Le proposte emendative presentate in Assemblea per lo più ripropongono i contenuti di quelle già esaminate in Commissione. Pur condividendo in alcuni casi le finalità delle modifiche proposte, io continuo a invitare i colleghi a un ritiro, se no vedrò il mio parere come parere contrario, perché abbiamo affrontato in Commissione, è stato ribadito anche nella discussione generale, l'importanza dei tempi di approvazione di questa... Onorevole Tullo mi deve solo dare i pareri, guardi, non mi deve dare spiegazioni. Parere, ho invito a ritiro, se no parere contrario su tutti... Su tutti gli emendamenti, grazie. Governo. Presidente, grazie. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti. Va bene, allora passiamo ai voti. Onorevole Bordo sul punto 1.1, immagino. Esatto, procediamo al ritiro dei due emendamenti. Quindi 1.1 e 1.2. No, c'è anche altro, c'è anche l'1.25. Lei ha anche un altro 1.25, si intende ritirato? Sì, sì, grazie. Grazie, perfetto. Allora, passiamo all'1.11 Liuzzi. Se nessuno chiede di intervenire, lo metto in votazione con il parere contrario di Commissione e Governo. È aperta la votazione. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.